Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Beressi. Nel video di oggi pomeriggio abbiamo parlato dei due acquisti che Milan sta cercando di fare, uno è praticamente fatto, quello di Gabbia che è rientrato al prestito al Villareal in anticipo di sei mesi, l'altro riguarda l'attaccante con un altro difensore nel Merino che dovrebbe essere l'Engley. Per quanto riguarda l'attacco, il discorso, io vi rimando tra l'altro al video che abbiamo pubblicato poco fa, dicevo, per quanto riguarda l'attaccante il discorso era che il Milan è alla ricerca di Ghirassi per l'attacco e addirittura nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana, sono previsti nuovi contatti con lo Stoccarda per cercare di arrivare a una conclusione positiva, per cercare di trovare la quadra, addirittura il Milan sarebbe disposto a pagare più di 17,5 milioni della claustra recessoria a patto di avere un pagamento rateizzato per quanto riguarda l'acquisto di Ghirassi. Ecco, io di fronte a tutto questo ho posto dei dubbi che vi invito tra l'altro come al solito a confutare nel caso in cui non siete d'accordo oppure a seguire facendomi sapere se siete d'accordo con me nei commenti e i miei dubbi erano, in questo momento al Milan probabilmente serve più un centrocampista che un attaccante e soprattutto prendere Ghirassi adesso significa, parlo perché evidentemente si reputa il prezzo un'occasione per il livello del giocatore e quindi puntarci anche per il futuro non solo per l'immediato presente. Questo cosa significa che o vorrebbe dire che Giroud non rinnova il contratto e allora dovrebbe arrivare poi un altro giocatore in estate oppure, e quindi perdere Olivier Giroud che comunque, secondo me bisogna pensarci due volte prima di lasciare andare Giroud, oppure significa che se rinnova Giroud e il Milan prende Ghirassi a gennaio non arriverebbe più nessuno in estate. Ecco, questa domanda è la costruzione migliore? Effettivamente basta Ghirassi? È un affare? Ora ne parliamo anche perché Zirk Zè è un giocatore che a Milan può arrivare, si può fare e qualcuno ha sentito dire costa troppo, non è esattamente così e ora ne parliamo insieme. Prima di continuare lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e appunto commentate per dimmi la vostra. Allora dicevo, Zirk Zè perché qualcuno dice non è possibile, qualcuno dice non arriverà mai, in realtà non è esattamente così. Prendere Ghirassi significa chiudere le porte a probabilmente a Zirk Zè e a David che era la prima scelta in assù. A meno che Giroud non dovesse rinnovare come dicevamo, allora il Milan potrebbe andare a prendere o David o magari Zirk Zè però Giroud io lo terrei, cioè io farei in questo momento Giroud, Jovic che secondo me possono bastare per il finale di campionato e Okafor, anche se Okafor pure è infortunato e starà fuori un pochino. Possono bastare per il finale di campionato e per l'Europa League e la Coppa Italia e poi andrei a prendere un attaccante a giugno che spendendo magari qualcosina in più ma prendendo un grande attaccante. David è il sogno, ma Giroud diventa possibile. Come è possibile voi direte? Bene, il prezzo di Giroud è 40 milioni e giustamente si dice ma il Milan 40 milioni per un singolo giocatore non li spenderà mai soprattutto in unica soluzione. Il Milan non è una società che è pronta e disposta a fare un investimento di questo tipo così pesante tutto insieme e siccome Zirk Zè ha diversi estimatori, Zirk Zè è di proprietà o meglio non è di proprietà, il Bayern Monaco osserva Zirk Zè il Bayern Monaco ha ceduto Zirk Zè al Bologna ma mantenendo la possibilità di riacquistarlo con un 40% di sconto che si traduce anche nel ricevere il 40% del prezzo a cui Zirk Zè viene ceduto dal Bologna. Cosa significa? Se Bologna vende Zirk Zè a 40 milioni che è il prezzo della clausola rescissoria se Bologna vende Zirk Zè a 40 milioni al Bayern va il 40% cioè 16 milioni di euro 16 milioni se lo vende a un'altra società. Viceversa ovviamente il Bayern ha uno sconto del 40% quindi può ricomprarlo a 24 milioni ed è questo il vero ostacolo per il Milan cioè il Bayern Monaco. Se il Bayern Monaco decide di riprenderlo è allora per il Milan ma così come per tutte le altre. Effettivamente ci sarebbe poco da fare il Bayern Monaco lo riprenderebbe avrebbe la certezza di prendere Zirk Zè Zirk Zè sarebbe felicissimo di andare al Bayern Monaco e non se ne parla più per nessuno ma nel caso in cui il Bayern Monaco non è disponibile in questo momento o non è intenzionato in questo momento a comprare Zirk Zè nuovamente perché bisogna ricomprarlo io lo ricordo non è che il Bayern Monaco solo riprende a zero dovrebbe spendere 24 milioni di euro. Se il Bayern Monaco non è intenzionato a spendere questi soldi per Zirk Zè allora il Bologna può cederlo a chi vuole pagando poi il 40% del prezzo al Bayern dei 40 milioni della clausola. Cos'è che può fare il Milan dunque per pagare questa clausola recessoria da 40 milioni? Il Milan con il Bologna io vi ricordo ha in ballo la questione Sale Makers Sale Makers è in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 10 milioni questo cosa significa? Che il Bologna dovrà pagare 10 milioni al Milan per Sale Makers Ma il Milan ha davvero necessità di questi 10 milioni per Sale Makers? Probabilmente no soprattutto considerando che eventualmente può inserirlo nell'affare Zirk Zè e ottenere un importante sconto di 10 milioni sul prezzo del cartellino cioè 30 milioni a quel punto che verrebbe a costare magari già 30 milioni diventa una somma abbordabile per il Milan diventa una cifra che il Milan è disposto a spendere per un attaccante ne spenderebbe quasi 20, intorno ai 20 per Ghirassi e sarebbe stato disposto a spenderne 30 per Jonathan David quindi 30 milioni per Zirk Zè diventa già una somma fattibile mettiamoci che magari il Milan può anche proporre un'altra contropartita Colombo per esempio nell'affare che vale altri 5, 6, 7 milioni poi questo si stabilirà e allora il prezzo addirittura potrebbe scendere intorno ai 22, 23 milioni di euro 25 milioni di euro però già 22, diciamo 23 milioni di euro per Zirk Zè più Colombo e Sale Makers è un affare assolutamente possibile assolutamente possibile e il Milan andrebbe a prendere un attaccante che come cercano i dirigenti rossoneri e l'abbiamo saputo durante il brindisi natalizio attacchi la profondità, che vada in profondità, che abbia qualità nei piedi Zirk Zè è perfetto, conosce già il campionato va in profondità, sa giocare con i compagni fa giocare benissimo gli esterni d'attacco e il Milan con gli esterni d'attacco che ha Pulisic e Raffaeleau può sfruttarlo nel migliore dei modi sarebbe l'ideale per il Milan e poi magari, chissà, magari se Motta dovesse arrivare effettivamente al Milan è uno dei nomi che si fanno per il dopo Pioli, per il prossimo anno e avrebbe di nuovo Zirk Zè che con lui ha reso benissimo insomma, Zirk Zè secondo me è il giocatore ideale per il Milan è il giocatore su cui Milan deve pensare seriamente di puntare per l'attacco deve essere la soluzione giusta per il Milan in attacco e si può, si può fare in questo modo come vi ho detto sale Makers, magari Colombo si abbassa il cartellino, che sarà 20, 20 no, difficile 23, 25, milioni, 30 milioni sono comunque cifre che mi ha un po' spendere per l'attaccante e Zirk Zè è il profilo giusto su cui andare a investire certo, magari non segna tantissimo ma sta aumentando il suo numero di gol e tra l'altro è in continua crescita e ha tante caratteristiche che fanno pensare che i gol arriveranno anche in grande quantità se è messo magari in una big tra l'altro è vero quello che ho detto io cioè che Giroud, Jovic potrebbero bastare ma devo concludere questo video con una notizia che è arrivata poco fa Jovic oggi si è allenato a parte ufficialmente perché deve smaltire una botta alla caviglia presa a Salerno c'è da dire che il Milan a Salerno ha giocato il 22 oggi è il 27 ci sono stati di mezzo 23, 24, 25, 26 diciamo che questa botta alla caviglia la sta smaltendo con molta calma per ora è tutto lasciate un mi piace a questo video iscrivetevi al canale attivate la campanella ma soprattutto commentate per dimmi la vostra se siete d'accordo con me la mia opinione se fareste qualcosa di diverso insomma come al solito io poi vi leggo fatemi sapere cosa ne pensate seguiteci su pirata milan.it e su tutti i nostri profili un saluto da parte di Stefano Bressi buone feste e appuntamento